ciao benvenuti alla scuola divertente cos'è questo questa si chiama volante della polizia volante della polizia e cos'è quest'altro queste si chiamano manette manette e cos'è questa questa si chiama lente d'ingrandimento lente d'ingrandimento ho capito oggi alla scuola divertente giocheremo alla caccia al ladro su vieni con me oh ma cos'è successo in banca andrea qualcuno ha rubato in banca ai 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 questo è veramente male veramente male ma in che senso hanno rubato la cassaforte qui tutta intatta forse la cassaforte è troppo pesante e non sono riusciti a portarla via che voi forza su apri la cassaforte la cassaforte è vuota oh qui era pieno di oro i ladri hanno rubato tutto questo è un lavoro per i veri detective ragazzi su dividetevi bisogna trovare le tracce dei ladri qua non c'è nulla qui non c'è nulla tutto vuoto vediamo qui e vediamo un po vediamo un po guardiamo un po qui purtroppo anche le segrete sono vuote anche la casa è vuota McQueen vieni subito qui aiutami ad alzare la giostra aiutami oh oh guardate qui cosa ho trovato mmm questo è un indizio mmm molto strano qui c'è scritto por e c'è scritto il numero 12 mmm ma cosa può significare mai mmm non lo so però io ho trovato un bellissimo cannone cat boy ma cosa fai? eh 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 non l'ho fatto apposta scusa scusa oh ma la macchina cosa ti ha fatto di male? wow guardate qui cosa ho trovato un altro indizio mmm la faccenda si fa davvero interessante vediamo cosa ce l'ha mmm qua c'è scritto to e il numero 45 non riesco a capire nulla oh Andrea mi è venuta un'idea brillante su dai uniamo i pezzi di carta insieme è venuto fuori la parola porto e un orario 12 e 45 Andrea Andrea ho capito tutto i ladri andranno via con una barca dal porto alle 12 e 45 e ancora sono le 12 e mezza abbiamo tutto il tempo si è vero sono le 12 e 30 ma bisogna sbrigarsi lo stesso blaze metti sul navigatore la strada per il porto andiamo mmm metto le indicazioni per il porto noi siamo qua e il porto si trova qua come mai è scomparso tutto che cosa succede oh no che sfortuna le batterie del navigatore si sono scaricate no che sfortuna adesso purtroppo ci scapperanno i ladri mmm tranquillo tranquillo vado al negozio a comprare delle nuove batterie arrivo subito e mentre noi aspettiamo McQueen guardiamoci un bel cartone animato le macchinine colorate e la gara più difficile stiamo arrivando al parco giochi e le quattro macchinine colorate dalla strada passano alla pista dove si può correre un po' di più rosso giallo verde buon divertimento attenzione alle curve e alle sorprese ancora una curva divertente ah ah bellissimo ehi macchinina gialla anche in pista bisogna essere prudenti prima sorpresa una nuova sfida l'immersione in vasche di palline colorate che meraviglia tutte queste palline guardate un'altra sorpresa attenzione ai cilindri ballerini appaiono e scompaiono e le macchinine sembrano danzare è uno spasso ce l'abbiamo fatta questa non ce l'aspettavamo da una piattaforma all'altra e chi cade ricomincia da capo mentre la macchina verde corre indietro la blu e la rossa ce l'hanno fatta e ora anche la gialla la verde sta recuperando e noi siamo bravi a saltare anche se non lo siamo si può imparare come la macchinina verde oh stai diventando bravissima sì dopo un po' di ostacoli un'altra sorpresa una piscina piena di gelatina rosa è difficile avanzare nella gelatina non trovi macchinina blu? vai macchinina gialla ancora una vasca ti sei fermata guardate la macchinina verde è diventata bravissima ha imparato a superare le difficoltà aspetta le tue amiche avranno bisogno di aiuto sembrate un trenino tutte fuori dalla gelatina rosa e insieme al traguardo ma chi ha vinto? l'amicizia entrate pure nel mio negozio benvenuti wow un negozio di armi da guerra questo si chiama ricetrasmittente grazie alla ricetrasmittente possiamo parlare con delle persone molto lontane da noi ehi ehi ciao 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 oh che bello e questo è un aereo da carico ci serve a trasportare dei carichi molto pesanti ciao McQueen come posso aiutarti? ciao Lyft mi servono delle batterie per il navigatore prego eccole qua scegli pure questo è troppo grande questa è per la torcia mmm proprio quello che cercavo me ne serve solo una ok il tutto viene dieci soldi ecco a te grazie per aver comprato nel mio negozio ti aspetto a presto grazie mille Lyft ci vediamo presto ciao si sta facendo tardi ma che fine ha fatto McQueen chissà dove sarà eccomi oh finalmente pronto accendi il navigatore perfetto il percorso ce l'abbiamo tutto pronto andiamo andiamo dietro di me catboy mi raccomando tu rimani qui nel caso in cui i ladri dovessero tornare certo comandante agli ordini sto per salpare sto per salpare sto per salpare sto per salpare ecco tutto il mio oro ragazzi eccolo l'ho trovato eccolo qui ti abbiamo trovato come avete fatto a trovarmi come avete fatto su ragazzi prendetelo aggiuffatelo mi dovete prendere se volete non riuscirai a scappare nooo bravissimi ragazzi bel lavoro è finito in manette no no lasciatemi andare lasciatemi andare adesso vai dritto dritto alla polizia in prigione a loro ci penso io lo porto indietro in banca nooo nooo lasciatemi andare ottimo lavoro ragazzi sono proprio fiero di voi Andrea senza il tuo aiuto non ce l'avremmo mai fatta sono sempre felice di aiutarvi ci vediamo la prossima volta ciao ciao